Ciao amici, come state? Come state trascorrendo queste giornate a casa con mamma e papà? Allora, spero che stiate giocando tanto e che vi stiate facendo coccolare tanto. Allora, io oggi sono qui per proporvi un'altra attività da poter fare con le vostre famiglie e anche in questa occasione useremo del materiale di recupero o comunque quello che c'è in casa. Ecco, oggi giocheremo a fare il piano luminoso in casa. Siete pronti? Allora, ci servono una vaschetta di plastica trasparente, una luce, meglio se più potente di questa, io non ne avevo altre, della farina gialla, ma se per caso non avete nessun contenitore di plastica trasparente non c'è problema perché basterà prendere una vecchia scatola da scarpe, mi raccomando con il coperchio removibile perché questo non ci servirà, e rivestire la superficie appunto con della pellicola trasparente. All'interno però ricordiamoci prima di chiuderla con la pellicola di mettere la luce accesa. Il nostro piano luminoso è pronto, non ci resta altro che spegnere la luce e iniziare a giocare. Ciao amici, è stato bello in qualche modo poter giocare anche oggi con voi. Ci vediamo alla prossima avventura, vi mando un abbraccio fortissimo e un bacio. Ciao amici!